Ciao e bentornato su Impara da Vinci Resolve e bentornato all'interno di Fusion. Oggi vedremo un'altra tipologia di maschera realizzata con i B-Spline, quindi vedremo cosa sono i B-Spline e come utilizzarli per realizzare maschere all'interno di Fusion. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Ti invito inoltre a salvare e seguire la playlist dedicata a Fusion. Continuiamo la nostra panoramica sulle tipologie di maschere. Oggi vediamo come utilizzare una B-Spline, quindi si tratta di una maschera molto flessibile e adatta in tantissime situazioni. Allora prendiamo questa clip, quindi media in e media out, quindi le due clip chiaramente in questo caso coincidono, visto che non abbiamo fatto nulla all'interno della Fusion Page. Ora facciamo clic col tasto destro all'interno del Node Editor, andiamo su Add Tool, sezione Mask, vedete che possiamo scegliere le varie tipologie. Allora adesso partiamo un attimo dal Polygon, che potrebbe sembrare quella più giusta se io voglio andare a ritagliare il volto, quindi vado a cliccare su un primo punto, tengo premuto il tasto sinistro del mouse per disegnare una curva di Bezier e vado avanti così, fino a disegnare tutto il mio percorso. Questa può sembrare la soluzione più adatta allo scopo, in realtà esiste una soluzione forse un po' migliore da questo punto di vista per gestire questo tipo di ritaglio, è tramite il B-Spline. Quindi andiamo ad aggiungere sempre un Mask, questa volta invece di selezionare un Polygon andiamo a selezionare B-Spline e guardiamo che succede. Adesso io disegno dei punti all'interno di un poligono e in automatico con il B-Spline mi vengono create le curve che vanno ad approssimare la mia struttura poligonale, quindi senza bisogno di andare a inserire le mie curve di Bezier. Adesso vedete col B-Spline selezionato posso andarlo a spostare, quindi utilizzando il Center, adattarlo e magari adattarlo anche in Size. Benissimo, possiamo andare a migliorare quella che è la definizione del nostro B-Spline e questa adesso può fungere da maschera. Ad esempio se la metto come maschera, quindi all'ingresso Mask di MediaIn 1, io andrò a ritagliare il mio MediaIn 1, quindi sia chiaramente sul MediaIn sia sul MediaAuto, visto che qua all'interno non c'è nulla. Come vedete io vedo già l'immagine della trasparenza. Se voglio andare a visualizzare il canale Alpha, cioè il mascherino con bianco e nero, vado all'interno del Viewer, che mi interessa, e premo lo shortcut A e potete vedere che adesso si vede il mascherino del canale Alpha, quindi opacità dove c'è il bianco e trasparenza dove c'è il nero. Non ho aree di semi trasparenza perché non le ho fissate nella definizione della maschera. Io posso accendere e spegnere la visualizzazione del canale Alpha, oltre che quello shortcut A, direttamente dalla menu a tendina che troviamo in alto nel Viewer, quindi accendo Alpha e accendo Color per la visualizzazione a colori. Se voglio andare ad allargare l'area di sfumatura, vado su Soft Edge e aumento la sfumatura intorno al volto. Poi posso naturalmente lavorare con gli altri comandi delle maschere, per esempio io posso invertire la maschera o posso lavorare senza riempimento e solo con il bordo. In questo modo posso gestire unicamente la selezione al bordo e non il riempimento. Qui come possiamo notare lavoriamo in una dimensione in 3D per la rotazione, quindi io posso ruotare sull'asse delle X, sull'asse delle Y e sull'asse delle Z la mia maschera. Adesso se io non volessi sfruttarlo come maschera di MediaIn, tolgo il link, vedete che adesso il canale Alpha è semplicemente tutto bianco, perché passa tutto il segnale e non c'è nessuna maschera applicata nel percorso da MediaIn a MediaOut. Ritorno a visualizzare la mia visualizzazione a colori e ad esempio adesso voglio utilizzare questa maschera per andare a mascherare un effetto, ad esempio un effetto di Blare. Quindi seleziono il mio MediaIn, vado a prendere un effetto di Blare, lo carico nel Node Editor, attacco l'uscita del B-spline sul Blare 1, ottimo, e adesso vado nei controlli di Blare e qui posso aumentare tranquillamente il Blare Size. Ok, magari col B-spline selezionato aumentiamo il Sizing. Come potete vedere, quindi abbiamo mascherato il volto in un attimo utilizzando il B-spline. Un altro utilizzo del B-spline stesso, magari adesso togliamo il Blare, andiamo ad aggiungere un nodo di Merge, quindi deselezioniamo tutti i nostri nodi e andiamo a prendere un MergeNode. Il mio MediaIn lo vado a collegare all'ingresso di Foreground del MergeNode. Ok, quindi colleghiamo il MergeNode al MediaOut. Ok, quindi adesso andiamo ad applicare un Background più colorato. Prendiamo un Background, quindi uno sfondo, gli diamo a dare un colore. Vado a prendere ad esempio un Magenta, tipo così, facciamo ok e colleghiamo il mio Background all'ingresso di Background appunto di Merge1. Adesso naturalmente io ho il MediaIn collegato al Foreground e il Background collegato, quindi lo sfondo Magenta, collegato al Merge1, però siccome il Foreground sta sopra al Background vedrò solamente il MediaIn1. Se adesso però lo andiamo a mascherare, quindi utilizzando il B-spline, io vedrò il ritaglio del B-spline sulla figura e tutto il resto lo vedrò col colore del Background. Andiamo a vedere, colleghiamo il B-spline sull'ingresso masca di Merge1 ed ecco il risultato che ho ottenuto. Naturalmente il B-spline ti permette una flessibilità enorme per quanto riguarda il posizionamento di tutti i punti mantenendo le curvature necessarie. Direi che abbiamo fatto una panoramica abbastanza precisa sulle principali maschere su Fusion e nel prossimo tutorial andremo a tracciare la maschera disegnata. Bene, se hai delle domande ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo per il prossimo tutorial su DaVinci Resolve sempre su questo canale.